signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale e oggi andiamo a parlare di una dicotomia importante nel mondo del gioco di ruolo e in realtà del gioco in generale su cui mi sono arrivate varie domande e alla fine ho deciso di fare un video specifico per rispondere a tutte in una volta sola come avete visto dal titolo oggi andiamo a parlare di crunch e fluff che sono due termini tecnici decisamente importanti all'interno dell'ambiente del gioco di ruolo anche se ho visto che molte persone non li hanno proprio mai sentiti citare e anche molti di quelli che già li conoscono spesso ne sottovalutano l'importanza non perdiamo altro tempo quindi andiamo a vedere cosa sono crunch e fluff e perché è estremamente importante tenerli sempre a mente oramai dovreste saperlo iniziamo sempre dando delle definizioni quindi cos'è il crunch e cos'è il fluff quando voi andate a sfogliare un manuale di gioco qualunque esso sia al suo interno troverete due tipi di informazioni distinte una parte sono le informazioni che vi servono per giocare al gioco le regole le procedure di gioco e l'altra sono le informazioni che riguardano il mondo di gioco l'immaginario condiviso e tutto quello che riguarda l'ambientazione i personaggi di quel gioco il crunch è proprio la parte regolistica se volete la parte numerica di un gioco cosa comprende questa parte nello specifico dipende da gioco a gioco in linea di massima saranno appunto regole e procedure in un gioco tradizionale potrebbe trattarsi di come posso eseguire le azioni del mio personaggio come faccio ad attaccare un nemico quanti punti ferita o come attivo le mie abilità speciali in un gioco più neutrato in uno story game potrebbero riguardare le procedure generiche del gioco chi può parlare che cosa può dire quando una persona può parlare quando un'altra persona può interromperla comunque in linea generale tutte quelle informazioni che riguardano le regole meccaniche che permettono il funzionamento del gioco e la conduzione di una sessione stiamo proprio parlando di quella che è la parte dura del gioco crunch letteralmente vuol dire qualcosa che sia duro da masticare per senso traslato viene chiamato così proprio e questi sono tutti gli aspetti più difficili e laboriosi da andare a modificare all'interno di un gioco è molto spesso quasi impossibile senza snaturarlo proprio perché questa è la parte di game design vero e proprio il fluff al contrario è tutta quella parte di informazioni che riguardano l'immaginario di gioco e le motivazioni in fiction che vanno a giustificare quello che succede durante le sessioni anche in questo caso quali siano nello specifico questi elementi dipendono da qual è il gioco a cui state giocando ma in linea di massima tutto quello riguarda l'ambientazione e il suo funzionamento state giocando in un mondo fantasy con draghi e stregoni o state risolvendo misteri nella chicago degli anni 30 perché i personaggi hanno i poteri e le abilità che hanno perché esistono i supereroi perché le persone possono lanciare incantesimi e anche tutte quelle informazioni sul mondo vero e proprio cosa c'è al di là di quel confine chi governa quello stato quale associazione fa cosa in quale città questa è la parte morbida del gioco fluff appunto in cui voi potete affondare le mani e modificare senza che in realtà ci siano così grandi problemi per il corretto funzionamento di una sessione questo è quello che viene chiamato il narrative design ora per quanto questi siano due aspetti distinti delle informazioni che un manuale di gioco vi fornisce sono in realtà strettamente legati tra i loro abbiamo infatti già detto più volte che se un gioco è ben scritto le regole di quel gioco dovrebbero essere scritte in modo che permettano di fare ai giocatori le azioni che più coerentemente sarebbero quelle che farebbero i loro personaggi in un gioco che si ispira al heroic fantasy classico come dnd il personaggio del guerriero è ispirato a tutti quei personaggi della letteratura cavalleresca e il classico eroe che combatte in mischia con spada e scudo per sconfiggere i malvagi mentre il mago si rifà sempre agli immaginari classici del fantasy e normalmente rappresentato come uno studioso che manipola l'energia arcana nell'universo se andiamo a vedere le regole che governano queste due classi di personaggio vedremo che il guerriero ha molte più abilità e capacità che rendono sensato per chi lo gioca andare a focalizzarsi su le abilità di combattimento vero e proprio magari non necessariamente la mischia comunque abilità nell'uso di armi e armature e rendere il suo personaggio uno macione imponente con alta forza alta costituzione proprio come l'archetipo del cavaliere del fantasy il mago al contrario che dovrebbe essere uno studioso che acquisisce il suo potere dai libri sarà molto incentivato a livello di regole a prendere abilità che gli permetano di stare il più lontano possibile dalla mischia vera e propria a lanciare incantesimi e specializzarsi su abilità mentali intellettuali e di conoscenza che è proprio quello che ci si aspetta che quell'archetipo di personaggio faccia all'interno è una storia fantasy ovviamente nessuno dei giocatori sarà costretto a fare determinate scelte ma le regole quindi il crunch è scritto in modo da rendere molto più logiche convenienti quelle scelte che aumentano l'attaccamento alla coerenza aumentano la mantenimento di quello che dovrebbe essere il canone condiviso del mondo fantasy ci saranno sicuramente delle eccezioni come esistono effettivamente delle eccezioni in vari racconti fantasy ma saranno casi particolari molto rari che però esattamente quello che ci si aspetta da un'ambientazione del genere la maggior parte delle persone si comporteranno in maniera normale ma poi ci saranno alcuni individui particolari che saranno anticonformisti questo era ovviamente un esempio estremamente semplicistico l'interdipendenza tra crunch e fluff dovrebbe andare ad estendersi a ogni singolo elemento di gioco o comunque a ogni elemento di gioco che abbia sufficiente rilevanza da dover richiedere una regola una procedura per permettere ai giocatori di interagirci in maniera significativa dungeons and dragon è un gioco che ha come focus l'esplorazione dei dungeon da parte di un piccolo gruppo di eroi presi dagli archetipi del high fantasy dell'epic fantasy molto più classico di conseguenza se proprio andate a vedere il manuale la stragrande maggior parte delle regole riguardano il combattimento all'interno dei dungeon o l'esplorazione negli ambienti di gioco ci sono ad esempio pochissime regole che governano il commercio è ovvio il gioco parte dal presupposto che la maggior parte delle interazioni che personaggi avranno col suo mondo saranno appunto quelle dell'esplorare e combattere e commerceranno semplicemente tra un'avventura e l'altra quando venderanno il tesoro per comprarsi nuovi oggetti magici non è un elemento focale del gioco c'è pochissimo crunch a riguardo e anche pochissimo fluff rogue trader che è un manuale della serie dark heresy in cui i giocatori interpretano l'equipaggio di un'astronave mercantile in cui la maggior parte delle azioni di gioco riguardano viaggiare da un pianeta all'altro vendendo scambiando mercanzie per far diventare i personaggi sempre più ricchi e potenti al contrario ha un intero sottosistema dedicato solamente al commercio con ovviamente molto più crunch rispetto a dnd ma anche nella sua lore anche il suo fluff comprende molte più informazioni su come funziona l'economia nel suo universo immaginario quali sono le principali organizzazioni di commercio quali sono le persone migliori con cui commerciare e via dicendo volendo andare nel pratico in dnd quanto un personaggio è ricco è semplicemente un valore di monete d'oro scritto al lato della scheda che in realtà ha come unico utilizzo in gioco quello di comprare vendere l'equipaggiamento in rogue trader è letteralmente un valore del profilo c'è un valore l'acquisition che indica numericamente quanto un personaggio è ricco e potente e nel corso del gioco è possibile che vengano effettuate prove su questa caratteristica per attivare determinate abilità del personaggio questa interconnessione tra regole e immaginario di riferimento al gioco è fondamentale per mantenere la sospensione dell'incredibilità dei giocatori ne avevamo già parlato in un video precedente ve lo lascio qua su e quindi permettere ai giocatori di immergersi meglio all'interno del mondo di gioco quando infatti questa simmetria tra quello che un personaggio possa fare quello che le regole gli permettano lo incoraggiano a fare e quello che l'ambientazione il mondo di gioco dice che un personaggio di quel tipo dovrebbe poter fare o dovrebbe essere spinto a fare è la base per mantenere l'illusione di gioco pensate ad esempio che voi state giocando un personaggio che viene descritto come estremamente bravo a combattere la lord di riferimento dice che i personaggi del vostro tipo sono famosi per le loro prodette marziali quando interagite con i png il master li fa reagire come se fossero tutti intimiditi all'idea di entrare in mischia con voi appunto per queste grosse abilità con le arti marziali che avete ma poi quando il combattimento vero e proprio inizia il vostro personaggio non solo non ha nessuna particolare abilità per combattere ma anzi la cosa migliore che può fare la cosa in cui è meglio specializzato è curare i personaggi degli altri a questo punto ci sarebbe proprio una dicotomia tra quello che le regole vi dicono di fare e quello che l'immaginario di gioco pretende che voi facciate e sarebbe molto più difficile mantenere l'immersione nel gioco se questi due concetti però sono così interdipendenti perché vengono espressi sempre come se fossero due cose separate e non vengono semplicemente accorpati in un'unica macro categoria perché per quanto abbiano entrambe la stessa importanza ai fini della buona riuscita del gioco c'è un elemento che le differenzia cioè la tolleranza alle modifiche il motivo per cui vengono sempre tenuti separati è proprio questo se è estremamente difficile andare a modificare tutto quello che è il crunch di un gioco è invece molto facile andare a modificare o anche del tutto ignorare il fluff senza che questo abbia conseguenze così disastrose sulla buona riuscita di una sessione il crunch diciamo in generale le regole normalmente sono basati su dei principi matematici c'è proprio dietro dei calcoli statistici e sono pensate per garantire il miglior bilanciamento possibile tra i personaggi sia proprio a livello di caratteristiche del personaggio ma anche in giochi più orientati alla narrativa dare pari opportunità a tutti i giocatori di andare a influenzare la partita andare a modificare queste potrebbero portare dei problemi a cascata che renderebbero un personaggio o peggio un giocatore estremamente preponderante sugli altri rendendolo quindi il protagonista della partita o magari al contrario escludere delle persone dal gioco rendendo inutile quello che fanno ai fini di andare a orientare la sessione non è che non sia richiesta competenza e abilità per andare a manipolare il fluff anzi la maggior parte dei video di questo canale vanno proprio a parlare di come scrivere e manipolare il fluff nella maniera migliore possibile però un errore in questo senso mal che vada potrebbe rendere la vostra ambientazione noiosa cosa che potrebbe comunque peggiorare l'esperienza di gioco al tavolo ma anche nel caso sarebbe molto più facile da correggere e semplicemente cancellare o disdire cose sono già state dette senza che questo vada a influenzare proprio le capacità dei giocatori abbiamo fatto prima l'esempio di dnd e manteniamo quello abbiamo detto che il mago è una classe pensata per specializzarsi su incantesimi e conoscenze ora diciamo che noi stiamo organizzando una nuova quest vogliamo mantenere lo stesso regolamento ma vogliamo dare al tutto un tono molto più fantascientifico ecco potremmo creare da zero una nuova classe dello scienziato e questo richiederebbe scrivere la classe e oltre a quello creare dozzine se non centinaia di nuove abilità talenti capacità speciali da associarli questo richiederebbe calcoli su calcoli e probabilmente mesi per studiare bilanciare la cosa oppure potremmo semplicemente prendere il mago e invece di descrivere le sue abilità come dovute alle sue conoscenze su manipolare le energie cosmiche all'universo dire che è uno studioso che tramite dei congegni che lui si costruisce riesce a ottenere degli effetti particolari la meccanica della classe sarebbe rimasta perfettamente invariata quindi non ci sarebbe bisogno di ricalcolare tutto il giocatore che gioca questo personaggio lo giocherebbe esattamente come prima ma la motivazione all'interno della storia perché quel personaggio fa quello che fa sarebbe stata radicalmente cambiata questo cambiamento però ha richiesto letteralmente poche parole che ho detto io all'interno di questo video quindi è evidente che è una modifica molto facile da fare volendo fare le cose per bene uno potrebbe anche mettersi a scrivere della loro riguardo a questa fantomatica classe dello scienziato ma in linea generale sarebbe qualcosa e richiederebbe un pomeriggio di lavoro per riscriverla volendo fare le cose veramente per bene a livello professionale qualche settimana di lavoro per riscriverla al contrario di mesi e mesi che sarebbero richiesti per fare la stessa cosa a livello meccanico e questa una delle motivazioni principali per tenere i due fluff e crunch estremamente separati e questo sarebbe comunque da considerarsi un grosso cambiamento all'interno del fluff cambiamenti di minore entità potrebbero letteralmente essere improvvisati dal master durante una descrizione magari il vostro giocatore ha creato un personaggio con una forte ispirazione medio orientale quindi vorrebbe che utilizzasse per combattere una sciabola perché si è più vicina a quel tipo di estetica immaginario ma per come il personaggio è fatto per come il personaggio è stato costruito in realtà da regole da crunch sarebbe molto più efficiente con uno spadone a due mani ecco potreste semplicemente dirgli di descrivere il suo spadone a due mani come se fosse una scimitarra particolarmente grande quindi richiede entrambe le mani per essere impugnata piuttosto che andare a creare una nuova arma da zero con regole contro regole tabelle connesse cosa che richiederebbe molto più tempo e magari non avrebbe neanche senso per soddisfare lo sfizio estetico di uno dei giocatori qui si potrebbe come sempre andare avanti all'infinito ma oramai il concetto è chiaro piuttosto scrivetemi voi nei commenti qui sotto quando vi è capitato di trovarvi di fronte a delle dicotomie tra crunch e fluff e come le avete risolte se le avete risolte come sempre se avete domande e dubbi e perplessità scrivete anche quelle qui sotto se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo più da crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i link al server di disco del gruppo di telegram dove le metto io manualmente e dove si riunisce anche la community al master cae che poi sono quelli che fanno le domande che portano alla creazione di video come questo per il resto io sono il master cae e noi ci vediamo nel prossimo video ciao